salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo sottopentola guardate è rigido perché è realizzato in cordino lo realizzeremo appunto con tema sempre festivo quindi per tutte le feste di natalizie che vanno da appunto natale e terminano per l'epifania quindi abbiamo tutto il tempo per poterci preparare i nostri sottopentola e sfoggiarli nelle nostre tavole per capodanno e l'epifania non solo per il natale si possono appoggiare tranquillamente sul sulla tavola per mettere pentole o pirofile calde per servire il pranzo o la cena oppure nei piano cottura delle nostre cucine quindi non sono solo utili ma anche decorano la nostra casa la nostra cucina prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina facebook e la mia pagina instagram passione uncinetto li cercherò con delle storie dei post e di anticipare ciò che porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciate un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò questo cordino che avevo preso dal da temo il la piattaforma online che vende uno di tutto io avevo preso mi ero scelta questo tipo di cordino rosso che ho utilizzato per fare il sottopentola lo lavorerò con uncinetto numero 3 e poi avrò bisogno un paio di forbici prima di iniziare la lavorazione vi volevo dire solo che questo sottopentola lo potete fare più grande o più piccolo io l'ho fatto una misura media quindi diciamo che va sia il pentolino più piccolo e sia la pentola grande o la pirofila o una teglia comunque sia perché anche se vanno oltre allo spessore e la rigidità per poter stare qui sopra quindi adagiarsi qui sopra voi potete farlo di diverse misure quindi potete realizzarlo anche più piccolo con qualche gira in meno e quindi utilizzarlo per magari per i pentolini del latte o caffettiera oppure lo potete fare anche più grande quindi questo è la misura ea vostra scelta facciamo un cerchio magico e iniziamo la lavorazione entriamo con l'uncinetto ci tiriamo il filo all'interno realizziamo due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e due catenelle di separazione quindi in tutto 4 catenelle filo sull'uncinetto entriamo nel cerchio e facciamo una maglia alta e abbiamo creato il primo archetto due catenelle di separazione entriamo sempre nel cerchio e facciamo un'altra maglia alta quindi di questi archettini ne dobbiamo formare in tutto 5 per ora ne abbiamo formati 2 1 2 ne dobbiamo formare altri 3 quindi ci lavoriamo questo questi archetti con maglia alta e due catenelle di separazione sempre entrando nel cerchio magico lavorati 1 2 3 4 qui siamo alla fine facciamo le due catenelle di separazione stringiamo la codina del cerchio rientriamo e ci chiudiamo nella seconda catenelle iniziale qui guardate 1 2 con maglia bassissima quindi prendiamo il filo e lo facciamo passare nelle due asoline e abbiamo creato guardate i nostri cinque fuori i nostri cinque archetti entriamo direttamente nel primo archetto con maglia bassissima ci rialziamo con due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta filo sull'uncinetto entriamo sempre nello stesso archetto e lavoriamo altre tre maglie alte altre due catenelle di separazione entriamo sempre nello stesso archetto e lavoriamo altre tre maglie alte quindi dobbiamo fare dei gruppetti di tre maglie alte due catenelle e tre maglie alte qui abbiamo già creato il primo ne facciamo un altro insieme e poi ce li lavoriamo ci lavoriamo come quelli restanti entriamo direttamente nell'archetto successivo e ci lavoriamo tre maglie alte quindi uno due e tre due catenelle e tre maglie alte sempre nello stesso archetto 1 due guardate e continuiamo così lavorandoci anche i restanti tre archetti arrivati qui alla fine entriamo nella seconda catenelle iniziale e ci chiudiamo con maglia bassissima ci spostiamo nella prossima maglia con maglia bassissima quindi entriamo e ci tiriamo direttamente il filo realizziamo due catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta e nella maglia successiva lavoriamo un'altra maglia alta nell'archetto lavoreremo sempre tre maglie alte 1 2 2 e 3 2 catenelle 1 2 e 3 maglie alte nello stesso archetto quindi 1 2 2 e 3 quindi gli archetti li dobbiamo sempre lavorare con 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte continuiamo lavorando queste abbiamo le tre maglie dell'archetto precedente andiamo a prendere la prima quindi entriamo nella prima maglia prendiamo il filo e facciamo la maglia alta andiamo nella seconda maglia e lavoriamo sempre la maglia alta e dobbiamo saltare l'ultima maglia quindi nell'archetto precedente lavoreremo le prime due maglie saltiamo una maglia da questa parte e una maglia da questa parte quindi dell'altro archetto ed entriamo direttamente quindi saltiamo 1 2 ed entriamo nella terza maglia facendo una maglia alta continuando in quello successivo nella maglia successiva sempre con la maglia alta quindi abbiamo lavorato le 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 maglie alte abbiamo saltato 2 maglie del giro precedente e siamo abbiamo lavorato le due maglie del prossimo gruppo qui nell'archetto lavoreremo sempre 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte dopo averle lavorate spostiamo la lavorazione guardate dobbiamo prendere la prima maglia che abbiamo qui sottostante prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo guarda guardate nella primissima maglia che c'è qui facciamo la maglia alta nella maglia successiva lavoriamo sempre la maglia alta quindi due maglie alte consecutive saltiamo 12 ed entriamo nel prossimo gruppo lavorando le due maglie vicino all'archetto e continuiamo così per tutte le nostre sezioni della nostra stella quindi due nell'archetto lavoreremo sempre 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte la scelta del dell'uncinetto un po più piccolo rispetto al cordino che sto lavorando e proprio per dare più consistenza e più rigidità al nostro sottopentola quindi vedete che l'uncinetto è un po più piccolo rispetto proprio il filato però la rigidità è maggiore quindi se volete una rigidità maggiore e state utilizzando un altro tipo di materiale prendete l'uncinetto un po più piccolo quindi magari di una misura in meno di quella consigliata ritornando alla lavorazione abbiamo fatto le 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso archetto e possiamo continuare così fino ad arrivare alla fine della lavorazione ne facciamo proprio un altro insieme filo sull'uncinetto entriamo qui dove c'è la maglia guardate qui c'è la maglia entriamo proprio in corrispondenza sulla maglia facciamo la maglia alta nella maglia successiva l'altra maglia alta quindi lavoriamo due maglie alte saltiamo 12 ed entriamo nella terza maglia quindi lavoriamo le due maglie prima dell'arco arrivati qui alla fine abbiamo le due maglie da saltare ci chiudiamo direttamente nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima avanziamo di una maglia quindi entriamo nella maglia successiva sempre con maglia bassissima ci realizziamo con due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e ora lavoreremo questa è la nostra prima maglia entriamo in quella successiva e lavoriamo la seconda maglia alta lavoriamo la terza lavoriamo la quarta maglia quindi quattro maglie alte comprese le due catenelle iniziali nell'archetto faremo sempre tre maglie alte due catenelle tre maglie alte quindi ci lavoriamo la prima maglia alta la seconda la terza due catenelle 2 catenelle 1 e 2 e sempre nell'archetto le tre maglie alte 1 2 filo sull'uncinetto qui abbiamo la maglia sottostante entriamo qui direttamente nella maglia facciamo la prima maglia alta facciamo la prima maglia alta facciamo la seconda la terza e la quarta dobbiamo lasciare sempre una maglia l'ultima maglia l'ultima maglia la dobbiamo saltare saltiamo anche la prima di questa parte quindi queste due maglie ed entriamo direttamente nella terza maglia quindi dopo aver lavorato qui abbiamo le maglie sottostanti dopo aver lavorato le nostre maglie saltiamo queste due maglie ed andiamo direttamente nella terza maglia e qui dobbiamo sempre lavorare la maglia alta poi lavoriamo la seconda la terza e la quarta e nelle nell'archetto faremo sempre la stessa cosa tre maglie alte due catenelle tre maglie alte entreremo nel primo punto che abbiamo a disposizione quindi uno due tre e quattro salteremo queste due che sono fra gli archetti quindi fra le punte della stella salteremo queste due e continueremo questa lavorazione fino ad arrivare alla fine arrivati qui alla fine entriamo nella seconda catenella iniziale e ci chiudiamo con maglia bassissima questa potrebbe essere un'altra misura che potete adottare per il sottopentola perché lo potete utilizzare per caffettiera o veramente il pentolino del latte quindi più piccolina rispetto a questa quindi le potete fare pure di diverse misure noi la faremo uguale a quella che vi ho presentato però questa è un'alternativa vi potete fermare a questo giro noi continuando entriamo direttamente nella maglia successiva con maglia bassissima facciamo due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta filo sull'uncinetto entriamo nella catenella nella maglia successiva e facciamo un'altra maglia alta quindi due in quella successiva facciamo la terza la quarta la quarta in quella seguente la quinta e la sesta quindi se ci fate caso per ogni giro aumentiamo due maglie quindi due maglie a giro infatti questo per noi è l'ultimo giro che faremo ma se dovete farne magari lo volete fare più grande sappiate che nel giro successivo a posto di sei qua troverete otto maglie nel giro seguente dieci maglie a due a due mi raccomando saltate sempre la prima quindi entrate con maglia bassissima nell'altra perché queste due maglie saranno sempre saltate per ogni giro che facciamo l'arco invece verrà lavorato sempre allo stesso modo quindi tre maglie alte due catenelle e tre maglie alte 1 1 2 2 e 3 2 catenelle 1 e 1 2 e di nuovo nell'arco 1 qui ci ritroveremo a lavorare sei maglie quindi filo sull'uncinetto la prima spostato un pochino la lavorazione e ed è proprio questa qui che abbiamo qui guardate questa qui quindi ci lavoriamo la prima ci lavoriamo la seconda la terza la quarta la quinta e la sesta saltiamo l'ultima saltiamo la prima filo sull'uncinetto ed entriamo 12 nella terza e continuiamo così fino alla fine lavorando sei maglie alte 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte nel nell'arco sei maglie alte saltiamo quelle due centrali da una parte dall'altra quindi l'ultima è la prima e continuiamo così fino ad arrivare qui alla fine arrivati qui alla fine ci chiudiamo con maglia bassissima sempre nella seconda nella seconda catenella iniziale e abbiamo terminato terminato la lavorazione del sotto pentola guardate guardate ora dobbiamo fare l'ultimo giro il contorno che ho fatto qui semplicissimo che ho fatto qui semplicissimo l'abbiamo già fatto in altre lavorazioni arrivati a questo punto ci realizziamo con una catenella entriamo nel punto successivo e realizziamo una maglia bassissima catenella catenella maglia bassissima catenella nel punto seguente maglia bassissima e contorniamo tutta la nostra stella quindi in questo caso è un sottopentola con catenella e maglia bassissima vi faccio vedere qui arrivati nella parte della punta come dobbiamo fare quindi catenella maglia bassissima catenella catenella maglia bassissima catenella entriamo qui maglia bassissima catenella ed entriamo direttamente in quello successivo quindi nella maglia maglia bassissima catenella catenella maglia bassissima quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine arrivati qui alla fine ho fatto la maglia bassissima faccio una catenella e mi chiudo nello stesso punto iniziale con maglia bassissima così faccio una catenella e taglio il filo sfilo il filo di lavorazione stringo e qui abbiamo il sottopiatto terminato guardate rigido perché così deve essere ora nascondiamo i fili quindi facciamo passare questo filo in alcuni punti di lavorazione quindi lo prendiamo lo facciamo passare sempre nella parte giustamente del rovescio del lavoro dopo averlo fatto passare prendiamo un accendino tagliamo il filo tagliamo il filo bruciamo un pochino e lo appiccichiamo al lavoro guardate l'abbiamo sigillato la stessa cosa facciamo qui lo facciamo passare in un altro punto giusto giusto proprio in un altro punto tagliamo tagliamo il filo guardate con l'accendino lo bruciamo e lo sigilliamo perfetto lo mettiamo sul diritto e abbiamo terminato il nostro sottopentola abbiamo i nostri due sottopentola pronti e quindi li possiamo sfoggiare in bella vista nella nostra cucina soprattutto poi per servire o sulla tavola o per e levare dal fuoco le pentole e appoggiarle sono l'ideale e sono belle anche da vista passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e